Radio Radicale, siamo con Antonello Falomi, Presidente dell'Associazione degli Ex-Parlamentari, per ricordare un amico del Parlamento e di tutti, noi lo amavamo tutti, di Gerardo Bianco, che è stato Ministro, Segretario del Partito Popolare Italiano, Capogruppo, ha rivestito ogni carica istituzionale importante Vicepresidente della Camera. Allora, oggi trovare persone come Gerardo Bianco è sempre più difficile. Qual è il suo ricordo e soprattutto anche il suo rapporto? Credo che voi abbiate fatto una legislatura insieme, ma penso che la conoscenza risalga anche a molto prima. Sì, noi abbiamo fatto una legislatura qui alla Camera insieme, però io lo voglio ricordare soprattutto per quello che mi riguarda come Presidente dell'Associazione degli Ex-Parlamentari. Lo voglio ricordare come Presidente dell'Associazione degli Ex-Parlamentari prima che io assumessi questo incarico. E l'ho assunto grazie alle insistenti e affettuose pressioni che Gerardo Bianco ha fatto perché io fossi il suo successore alla Presidenza dell'Associazione. Devo dire che la fiducia che mi ha dato è stata per me un motivo di grande onore perché Gerardo Bianco è stata una personalità importante della politica italiana e la fiducia che ha voluto darmi nello spingermi a fare il Presidente dell'Associazione per me era appunto un motivo anche di orgoglio perché era una figura molto importante. Nell'Associazione, diciamo, la battaglia principale che abbiamo fatto insieme, lui prima come Presidente e poi come Presidente onorario, è stata quella della difesa dell'autonomia e dell'indipendenza del Parlamento. Lui ha sempre visto, e su questo ci siamo sempre trovati al 100% d'accordo, ha sempre visto la questione Vitalizi, non come un problema economico, diciamo, degli interessati, ma come un problema attraverso cui passava la difesa dell'autonomia e dell'indipendenza del Parlamento. Colpire il parlamentare, come è stato colpito nella vicenda dei Vitalizi, per lui era colpire l'autonomia e l'indipendenza del parlamentare e giustamente ha sempre detto e ha sempre sostenuto che se si colpisce l'autonomia e l'indipendenza del parlamentare, si colpisce l'autonomia e l'indipendenza del Parlamento. Lui è sempre stato un grandissimo difensore del Parlamento, del suo ruolo, della sua funzione ed è sempre stato, come dire, molto critico nei confronti del ruolo di svuotamento, di depauperamento, di indebolimento della funzione e della rappresentatività del Parlamento. Quindi questa, anche nella nostra associazione, lui ha continuato una battaglia che ha sempre fatto anche dentro il Parlamento, cioè quella della sottolineatura della centralità del Parlamento nella vita istituzionale e democratica del Paese. Lui era una persona molto mite. Io mi sono chiesto, insomma, con questa mitezza di carattere, insomma ci si poteva parlare tranquillamente, come poteva fare anche il segretario di un partito politico che ha un ruolo di una certa rudezza e ruvidezza. Allora, lei, diciamo, ha avuto mai l'impressione, parlando con lui o comunque avendo dei colloqui politici con lui, del fatto che ci fosse una barriera politica tra voi due? No, anzi, devo dire che io ho trovato un'estrema apertura. Naturalmente lui aveva una storia politica, che era la storia politica della democrazia cristiana. Io avevo una storia politica che era quella del Partito Comunista. Però non abbiamo mai trovato barriere tra di noi. È sempre stato un uomo molto aperto, con delle qualità umane straordinarie. Che naturalmente si parla di mitezza. Mitezza però non vuol dire che non avesse fermezza nella difesa di alcuni elementi chiave, valori chiave della nostra democrazia. La sua straordinaria capacità anche nella vita dell'associazione, che è un'associazione dentro la quale ci sono tutti gli orientamenti politici, da destra fino all'estrema sinistra. Lui aveva questa capacità di dialogo con tutti, mantenendo però fermi alcuni principi generali sui quali lui ha costruito, diciamo, il suo impegno politico. Senta, le capitava spesso di sentire delle citazioni in latino da parte sua? Le faceva spesso? Oppure, diciamo, si alteneva? Beh, no, si divertiva ogni tanto a correggere citazioni che venivano fatte nel corso dei dibattiti parlamentari che erano un po' o a sproposito o sbagliate. Era un po', ironizzava un po' su questa... Però era un uomo di una grandissima cultura politica. Credo che sia uno dei più grandi esperti, di cosa poco nota, di Francesco De Santis, diciamo, nel nostro paese. Ha scritto molti libri, ha fatto molte riflessioni. Quindi era veramente un uomo colto, ma al tempo stesso di grande, ma anche un grande politico. Ha mai... Lo ha mai associato a qualche corrente particolare della democrazia cristiana, a qualche leader della DC, oppure lo considerava un uomo libero dentro un partito pieno di correnti? No, a me sembrava un uomo molto libero. Devo dire, sapeva che il suo partito era organizzato in correnti, ovviamente. Però era difficile, come dire, collocarlo nel gioco delle correnti, perché aveva un'autorevolezza tale che in qualche modo lo metteva un po' anche al di sopra, diciamo, delle correnti. Bene, io la ringrazio per questo bel ricordo che ha fatto di Gerardo Bianco, un uomo che mancherà a questo palazzo, ma anche alla storia delle istituzioni finché queste esisteranno. Speriamo per sempre. Grazie. Grazie Antonello Falomi.